È stato chiuso il principale passaggio per i migranti nelle vicinanze della città ungherese di Rochke, al confine con la Serbia. Una rete lunga 175 chilometri e con danni più severe attendono tra poco chi vuole entrare illegalmente in Ungheria. Con queste nuove regole il governo ultraconservatore cerca di ridurre gli arrivi. Le nuove norme saranno in vigore dal 15 settembre e rafforzeranno la protezione dei confini ungheresi. L'attraversamento illegale delle frontiere non sarà una semplice violazione del diritto, ma un delitto punito con il carcere o l'espulsione. Oltre 5.300 profughi sono entrati dal confine serbo in metà giornata. L'Ungheria è uno dei paesi di transito verso il nord dell'Europa dove i migranti vogliono arrivare per fare domanda di asilo.